la felicità bianca l'impiegato d'assicurazioni theodore fink stava viaggiando da vienna verso la riviera durante il tragitto soltanto scoprì nell'orario che sarebbe arrivato a verona nel cuore della notte e che lì avrebbe dovuto aspettare due ore per la coincidenza tale fatto imprevisto non contribuì in nessun modo a metterlo di buon umore accese una sigaretta trovò il fumo insopportabile e la gettò facendole descrivere un grande arco fuori del finestrino i suoi occhi seguirono il punto incandescente contro la pallida e piatta campagna marzolina e nei punti più bassi conservava ancora tracce di neve simili a sudici cuscini ma questo lo annoiava tanto quanto il romanzo dalla copertina gialla che era vicino a lui sul sedile allora acciliato tornò ad esaminare per la decima volta la lettera che suo fratello malato gli aveva scritto da nizza quanto più leggeva le righe affrettate e malsicure tanto più evidente gli appariva che esse contenevano l'appello di un moribondo e si sentiva sempre più a disagio non aveva mai avuto molta tenerezza per quel fratello nato tardi più giovane di lui di sette anni perché detestava tutto quanto avesse apparenza di fragilità e di poca salute inoltre la raffinata sensibilità del fratello gli riusciva sospetta ed estranea paventava i giorni che lo aspettavano pieni di agitazione e di fatica ma nello stesso tempo provava una sincera pietà che cercava di miticare continuando a pensare sarebbe proprio una fortuna per lui quando si è malati con questi pensieri si addormentò presto con le membra dolorante e un grande sonno egli fu l'unico a scendere a verona vecchia e a seguire il facchino taciturno nella sala d'aspetto di seconda classe davanti all'alta porta a vetri la sua guida lo lasciò theodore fink spinse col gomito l'imposta e attese sulla soglia che i suoi occhi si assue facessero al buio dell'interno a poco a poco cominciò a scorgere le porte ad arco che di fronte a lui davano sul marciapiede e una specie di mostro con molte gobbe quattro gambe robuste che stava in mezzo alla sala una tavola carica di bagagli infine fink scorse anche le panche che correvano lungo il muro e si trascinò sino a quella più vicina per continuarvi il sonno interrotto brancolava in cerca della panca quando proprio nel momento in cui si chinava di fuori passò qualcuno con una lanterna e un raggio guizzato dentro illuminò per un istante il viso barbuto di un uomo che dormiva fink si scosse e lasciò sfuggire un'imprecazione la sua voce risuonò nella sala più forte di quanto egli si aspettasse e da tutti gli angoli gli giunsero come risposta gemiti i movimenti di gente che si stirava scricchiolio di panche una sorda parola barbugliata nel sonno il nuovo venuto rimase per un momento interdetto pensò dunque qui c'è già dappertutto gente a dormire quindi prese a camminare lungo le pareti vicino all'angolo più buio sentì un posto libero e vi si lasciò cadere estenuato rimase seduto e non si arriscao neppure ad allungare le gambe era convinto che alla sua destra e alla sua sinistra vi fossero persone sdraiate e temeva di disturbarle continuò a rimanere immobile e la fronte gli si coprì di sudore le palpebre appesantite gli si abbassavano lentamente ma egli subito le sollevava come preso da un repentino terrore e cercava di orientarsi nella stanza in ospitale sul cui tavolato di tanto in tanto trascorrevano luci rapide come gabbiani fink trasse un profondo sospiro quando la porta dalla quale era entrato gemette contro la debole luce rossastra del corridoio due o tre figure spiccarono come ombre nuovi viaggiatori entrarono nella sala la porta si chiuse alle loro spalle e fink cercò di seguire le figure ma mute e senza rumore esse si persero nella pesante oscurità e solo lo scricchiolio d'una panca fece supporre che dovevano essersi sedute da qualche parte di nuovo silenzio finché nella tensione della sua eccessiva stanchezza trovava mille rumori e li seguiva avvertendo in ognuno qualcosa di estraneo e di ostile era come se tutta quella gente si affollasse intorno sempre più e l'oscurità intorno a lui prendesse corpo così quando da ultimo ebbe acceso frettolosamente un fiammifero trasse un sospiro di sollievo nello scorgere davanti a sé il vuoto grande e nero tuttavia ne accese ancora un altro per rassicurarsi del tutto proprio mentre crepitando ne accendeva un altro ancora una voce esclamò nell'angolo così a cieca scusi finché tese l'orecchio verso la sommessa voce armoniosa col fiammifero quasi consumato fece involontariamente luce dalla parte d'onda era venuta la voce e credette di vedere fugacemente un viso di donna coperto da un fitto velo poi la luce si spense egli si trovò nuovamente nell'oscurità e attese la voce e questa venne è terribile trascorrere una notte nella medesima stanza con tanti estranei vero sono così strani gli uomini nella notte e i loro segreti diventano più grandi di loro è terribile ma la luce così a cieca finché sentì che la piacevole sommessa voce aveva espresso ciò che angosciava anche lui ma l'ultima frase che suonava come una scusa lo rimise di colpo dal suo turbamento vicino gli si sedeva una giovane e forse anche una bella donna e subito fu eccitato dalla possibilità di abbreviare le ore di attesa con una piccola avventura senza volere si arricciò i baffi e si chinò premurosamente verso l'angolo buio anche lei signora va a nizza no ritorno a casa in marzo fa ancora molto freddo in germania forse è stata laggiù per ragioni di salute oh sì sono malata disse questo con voce triste ma pacata finché tacque sorpreso e imbarazzato i suoi occhi frugavano l'oscurità ma non riuscivano a scorgere nulla l'aria era carica di un fumo pesante da qualche sogno emerse un gemito e fuori un campanello trillò simile a un grillo per rispondere qualcosa finché disse io non sono malato ma lo è mio fratello le cose gli vanno male a nizza per questo vado là dal buio venne oh lo riporti indietro anche se sta male al principio della primavera laggiù tutto è triste il vivere e il morire teodor finché fece un movimento e la malata continuò a voce molto bassa le persone stanche e malate debbono restarsene a casa impiegato pensò deve essere ancora giovane ma si sentì stupido goffo e rozzo quando replicò tenga conto del clima signorina quello è come se non avesse udito continuò anch'io vado a casa ero triste tra i fiori e sola lei è certamente ancora molto giovane signorina interruppe finché ma si addirò contro se stesso per tali parole sì disse lei semplicemente sono giovane parve a lui che essa sorridesse ma proprio per questo sto volentieri sola anche a casa sono molto sola e o der finché preparò la domanda di dov'è lei ma non poteva formularla perché essa continuò a raccontare con una voce che diventava sempre più dolce e sognante e suonava come se venisse da lontano ho una camera bianca le sue pareti sono tanto chiari che dentro rimane sempre un po di sole anche quando la luce fuori è grigia e ci sono molte giornate grigie fuori ma nella mia camera c'è sempre luce le finestre hanno tendine di tul bianco e dietro ci sono fiori bianchissimi piccoli fiori che non si schiudono mai completamente non hanno un profumo forte ma ogni cosa odora di loro il mio fazzoletto i cuscini i libri preferiti ogni mattina viene il suo ragate e sorride sorride sempre quando viene da me e siede accanto al mio letto nella sua bianca cuffia di suora le sue mani quando toccano sono come petali di rosa essa non sa nulla del mondo e io nemmeno così ci si comprende quando qualche volta così di rado il sole è caldo ci sediamo alla finestra e guardiamo fuori allora ecco davanti a noi tutto quello che è sonoro e grande il mare e la foresta e il villaggio e gli uomini la domenica quando suonano le campane è come un ricordo le buone persone degli anni passati bussano alla mia porta vengono da me come in una chiesa con i fiori in mano in punta di piedi e vestite a festa un silenzio improvviso anche il campanello fuori taceva Theodor Fink agghiacciò nel buio aspettava la voce sentiva essa continuerà a parlare con la stessa voce dolce e argentina mi dirà molte cose è come una confessione e io non la posso comprendere forse uno dei tanti estranei su queste panche ascoltandola la capisce io non posso capirla ho paura di lei Theodor Fink si alzò ad agio senza far scricchiolare la panca e a tentoni avanzò verso la porta d'ingresso la chiuse cautamente dietro di sé si affrettò come se loro incorressero verso l'uscita attraverso i corridoi debolmente illuminati passando accanto agli impiegati assopiti finalmente trovò l'alto portone non sapeva di correre per lo scuro e sconosciuto viale di tiglia alla volta della città sentiva soltanto non la posso capire solo quando gli passò davanti il primo carro postale diretto di buon'ora alla stazione si fermò e si tolse il cappello il vento del mattino si muoveva leggero sopra di lui tra i vecchi rami dei tigli spingeva contro la sua fronte piccoli fiori freschi sopra di lui